Salve a tutti, Wachikebari, io sono SuperGiomaster e benvenuti in questo nuovo video. Ho avverto subito che l'immagine sarà questa per tutto il tempo e quindi, ecco, benissimo, non apparirà nessun video, eccetera. Come tutti voi sapete, in questo periodo la notizia principale che sta apparendo sui telegiornali, giornali, su web, è ogni volta sempre il maledettissimo coronavirus. Ma è da tre settimane che continuo sempre a sentire questo nome. Per chi non lo sa, il coronavirus è nato in Cina e poi è andato ad infettare una marea di persone, non solo lì ma anche in tutto il mondo, eh. E a causa di questo abbiamo dovuto chiudere le scuole, il cinema, i musei e i luoghi pubblici. Sì, non so se tutti quanti, ma la maggior parte. E ormai siamo a casa, rinchiusi dentro le nostre mura. E beh, certo, all'inizio, quando ho scoperto, oh, guarda, scuole chiuse, ah, che figata, sì, finalmente, niente compiti. Ma dopo un po' è diventato proprio una noia mortale, ragazzi. E comunque, sì, adesso le scuole hanno deciso di fare anche per gli studenti quello di fare le video lezioni usando, per esempio, anche Classroom o Meet, eccetera. Ed è così. Ma che cavolo c'entra Mario e Sonic a Giacolimpici Talk 2020? Bene, adesso ve lo spiego. Non so se lo sapete, ma spero di sì. Quest'anno, diciamo verso l'estate, agosto, giù, non mi ricordo, però estate, estate, il sole è coccente, ecco. Ci saranno le Olimpiadi di Tokyo del 2020. E a Tokyo c'è il coronavirus, e direi un po' tanto. Ma se questo cacchio di virus non viene fermato subito, e quindi continuerà per estate, speriamo non per tutto l'anno, perché sennò il 2020 sarà veramente uno schifo tremendo. E se continua ad esserci le Olimpiadi non si potranno fare, non ci saranno. Game over per le Olimpiadi. Ed è un vero peccato. Forse lo sposteranno da un'altra parte, ma mi sa di no. Cavolo ragazzi, pensateci. Gli atleti che corrono, saltano, nuotano, lanciano i martelli, eccetera, si sono allenati tutto l'anno, e poi arriva il momento, o no, Olimpiadi non ci sono a causa del coronavirus. Cioè, vi immaginate la rabbia e la frustrazione che provano questi atleti? È una roba bruttissima. E quindi, sì. Se poi accadrà questa cosa, la Nintendo e la Sega hanno creato e prodotto un videogioco che poi non servirà a niente. E la cosa peggiore è che ho scoperto adesso, praticamente, è che se si continua così, si faranno le Olimpiadi digitali. Ti avete bene capito? Olimpiadi digitali. Cos'è? Tocca lo schermo per muoverti e fare i punti nel surf. Ragazzi, cos'è? Le Olimpiadi dei videogiochi ci saranno, ragazzi. No, ragazzi. No, raga, no, seriamente. Boh, è una cosa bruttissima. Perché, se voi lo sapete, Mario e Sonic ai giochi olimpici è in collaborazione con le vere Olimpiadi. E questi titoli escono un anno prima delle vere Olimpiadi. Diciamo come anteprima degli sport e eventi che ci saranno, comunque. E io, ragazzi, io voglio vedere gli atleti che fanno sul surf fronte alle onde, oppure le rampe con lo skateboard, eccetera. Ma, ragazzi, mi sa proprio che se il virus del cazzo continuerà ad esserci, non ci saranno. Ed è un vero problema, ragazzi. Questo è un grossissimo problema. E poi, sempre a causa del coronavirus, come ben sapete, diciamo che si sono fermate molte aziende di videogiochi. La Nintendo, la PlayStation, vabbè, Xbox, Microsoft, tutte queste. E stanno andando molto, molto lentamente, ragazzi. Io davvero voglio che questo virus se ne vada via. Vabbè, certo, ok, grazie a lui, maggior parte di noi possono stare a casa e fare i cavoli nostri. E guardare Netflix o queste robe qui. Però, veramente, ragazzi, ci sono alti e bassi, eh, lo dico. Io cadono a giocare ai videogiochi. Io voglio che escono nuovi giochi. Ma, per colpa del coronavirus, se c'è un bordello totale nel Nintendo che non si può a quello e quell'altro, ragazzi, non so che fare. Non lo so. E io, comunque, sono molto dispiaciuto per le persone che stanno riscando la vita. Ed è un vero peccato per tutti quelli che sono all'ospedale. E io spero tanto che finirà tutto questo. E, boh, mi dispiace tanto per le famiglie. Quindi, beh, per concludere, io spero tantissimo che questa minaccia, diciamo, se ne vada via. Che, appunto, trovano un antidoto. Mamma mia. E spero che le Olimpiadi ci saranno quest'anno, perché le sto aspettando tanto tempo. Perché, comunque, ho gradito amare Sonic Edge con l'Olimpi ci tocco 2020. E penso che sia uno dei migliori titoli della saga. E vedremo più avanti come andrà il tutto. E, comunque, beh, devo ammettere che il 2020 è iniziato proprio benissimo, eh. Ma proprio fantasmagoricamente male.